di Luca Jovic. Nel secondo tempo Milan volenteroso ha fatto di tutto per recuperare la partita. Lei cosa può rimproverare alla squadra o a se stesso, mister, se c'è qualcosa? Abbiamo commesso degli errori che hanno pregiudicato la partita, perché... Quando si prende quattro gol, poi da parte mia si è anche sbagliato dire che la prima mezz'ora l'avevamo fatta come dovevamo farla, ma la realtà è quella. Poi commetti gli errori, ma la partita era ancora lunga, abbiamo dimostrato che avevamo le qualità e le possibilità per riprenderla. Chiaramente l'inforietà numerica ci ha creato ancora più disagio, ancora più difficoltà. E poi dopo il 2-2 dovevamo essere un po' più lucidi, gestire un po' di più, difendere un po' di più, ma in quel momento lì la squadra voleva addirittura cercare di vincere. Ma è stata una serata dove abbiamo sbagliato troppo, questo sicuro. Studio, voi. Ambro. Sì, Stefano, ciao. Del primo tempo, a noi, cioè a me in particolare, a tutti, ha stupito un po' anche il ritmo che la squadra ha tenuto. È vero che all'interno di un contesto di equilibrio generale, diciamo, la squadra è andata più piano in rapporto anche, magari, ai cambi che avevi fatto, perché magari la turnazione che avevi fatto probabilmente era funzionale a dare stimolo ai giocatori nuovi che dovevano dare, dal punto di vista della brillantezza qualcosa. Però la manovra, non pensi, sia stata un po' troppo lenta nella gestione del ritmo? Sì, sì, doveva essere più veloce, però è tanto vero che il Monza si è messo tutto dietro, ci ha aspettato e quindi sai che per dare il ritmo poi bisogna essere anche un po' in due. La palla poteva viaggiare più velocemente, ma avevamo trovato anche delle buone situazioni dove poi non siamo riusciti a incidere, questo sì, ma la partita è cambiata purtroppo in peggio per noi, in molto negativo per noi, dall'interruzione all'espulsione, a tutti quegli episodi che dove una squadra come la nostra doveva sicuramente fare meglio, essere più luce, essere più attenta, essere più efficace.